Il mistero buffo nasce proprio in quegli anni, negli anni settanta. E quindi come prima domanda vorrei chiedere a voi chi c'era negli anni settanta. Vieni a farmi lasciare, gente, vieni, vieni a voi fai ridere, o incominciabbi a stemmar, Gris, to, pa! Una gran sprofata di acqua, l'acqua l'è sortita, a tocca abbi a stemmar per far venire l'acqua. Voi a desgrazione del vero, ora andai in battaglia. Il culo andava su un muro, canca il muro, che aveva un culo, che quando il notaro è desendio del muro non si capisce se è desendio del culo del notaro o del culo del muro. Mi piace, non mi porto neanche sulla polpa aiutopolo, sciù, manca i coglioni. Mi piace, mi piace, la mia vita, mi piace, ho capito che ti piace, basta, mi piace. Ho capito che ti piace, mi piace, ho capito che ti piace. Ma fammi parlare, una volta che non parlo con una pegura. Bisogna sapere che a Fondo Valle viveva un prevede, un bel uomo, ziovine, simpatico, un gran parlador, un firbasso, un chiamave, donfaina. Lengua, ciò d'opportun, tu, tu, tu. Ehi, 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 Ehi Grazie. Grazie.